un caloroso ciao da tutta piazza gentile che sta guardando siamo in piazza non mi ricordo qual è a madrid caglie all'uscita di caglie hao stiamo rientrando alla base dopo aver mangiato ciccio come sempre sempre qua ed eccovi qua un po la presentazione di questo luogo impervio che è madrid dove la gente mi ha abbandonato il mio triste destino e boh basta intanto non sono sicuro che si senta qualcosa ciao